Oltre 30.000 nuovi lavoratori. Napoli ha bisogno di un urgente investimento in termini di occupazione e lavoro. Le cifre sono preoccupanti a causa della crescente crisi economica e sociale e del progressivo allontanamento dagli standard europei. La cassa integrazione è in incremento, accompagnata da mobilità e chiusura di decine di aziende. I più colpiti sono i giovani e le donne. Gli obiettivi del Consiglio Comunale sono quelli di consolidare e sviluppare politiche basate sul riconoscimento e valorizzazione della specificità del sistema locale e dell'incremento dell'occupazione. I consiglieri si impegnano nel proporre strategie per venire fuori da questa situazione di crisi, come spiega Carmine Attanasio De Verdi. Napoli soffre di mancanza di lavoro. Il Comune direttamente non dà lavoro, però può creare i presupposti attraverso una pianificazione anche urbanistica di quello che dovrebbe essere la città di Napoli, di un'idea di città, di dove vengono attivate tutte le aziende produttive nuove che dovranno arrivare e chiaramente questo Consiglio non potrà non parlare della questione di Napoli-Est e di Bagnoli. Noi riteniamo che il discorso sul lavoro vada fatto su basi concrete, cioè di idee che devono iniziare da parte dei consiglieri e certamente non ci accontenteremo di documenti sterili che cercano di dare una risposta che poi nei fatti non arriva. Negli ultimi anni la situazione occupazionale è peggiorata sensibilmente. Tutti i giorni ci sono proteste e manifestazioni di disoccupati. Marco Nonno, Fratelli d'Italia. Sono diverse categorie, sono disoccupati, sono gli operatori brosso, sono i corsisti del progetto Isola, sono gli operai delle partecipate che non vengono pagati, sono tantissimi. Questo dimostra che il sindaco aveva avuto un approccio completamente sbagliato nell'amministrare, nella gestire la città. Ad oggi registriamo che il sindaco dovrebbe soltanto cambiare rotte, avere un attimo, uno scatto di dignità e di umiltà perché questo suo piglio, questo suo comportamento che aveva portato a rompersi praticamente con tutti, ha portato anche questo comportamento appunto alle situazioni, allo sfacelo in cui vive la città odierna.